In un momento di grande difficoltà e grande confusione serve coerenza. Con queste parole oggi Stefano Aguzzi, sindaco di Fano da dieci anni, presenta la sua candidatura a consigliere comunale con la lista civica La Tua Fano, a sostegno di Davide Del Vecchio. Io innanzitutto credo che questa sia una scelta di coerenza, di una grande coerenza e di un grande amore per questa città. Dopo dieci anni da sindaco io voglio portare avanti una attività che può essere utile, spero, a questa città anche in prospettiva. E in quale modo? Vedi, i momenti sono quelli che sono di grande difficoltà, ma sinceramente anche di grande confusione. La politica non sta dando un grande spettacolo a livello generale e non so, anche a Fano, probabilmente neanche a Fano non sta dando un grande spettacolo. E le persone hanno molte motivazioni per non avere più una grande fiducia nella politica. troppe girevolte, troppe pirouette, troppi cambi di direzioni, troppo opportunismo, troppe scelte fatte per convenienze più o meno personali. Ecco, questo a me non appartiene. Io, dodici anni fa, ho fondato una lista civica che si chiama La Tua Fano. L'abbiamo poi caratterizzata durante il percorso anche con il mio nome, Lista Guzzi. Ecco, io mi ricandido a Fano con la mia lista civica. Non con un partito politico, non con la destra o con la sinistra, ma con la mia lista civica. È una scelta di grande coerenza. Anche di continuità, ma può essere anche una discontinuità. Ci sarà un nuovo candidato sindaco ed un nuovo sindaco, non sarò più io. Conseguentemente non è una semplice continuità delle cose fatte finora. Si possono fare cose anche diverse. Per me la scelta, diciamo, è in continuità con la coerenza mia di stare vicino a chi mi è stato vicino in questi dieci anni. Quindi, come dire, mentre tutti guardano dove collocarsi, dove poter far meglio carriera, io guardo invece come posso ancora essere utile alla mia città, ai miei concittadini e a chi è che ha percorso con me questi ultimi dieci anni. Grazie a tutti. Grazie.